Ciao a tutti ragazzi, buona Pasqua intanto a voi e alle vostre famiglie passate queste due giornate di festività alla grande, ve lo auguro ovviamente dal punto di vista sportivo e calcistico non possiamo essere contenti del risultato di ieri perché sono altre cose importanti, quindi festeggiate tranquillamente, mi raccomando e vi auguro il meglio Ora, perché ho fatto questo video il giorno di Pasqua? Avevo queste idee che mi frullavano in testa e farle domani non avrebbe avuto lo stesso peso secondo me quindi vi sparo tutto oggi direttamente in questo video, quando avete tempo ve lo guardate e mi dite un po' la vostra opinione per ciò che sto per dirvi perché la cosa sorprendente di ieri è stata la presenza di Alex Del Piero allo stadio dopo dieci anni Cioè Del Piero in realtà era già venuto allo stadio ma in qualità di giornalista o Sky o di Prime Video mai come ospite speciale dallo stadio dello stadio e della Juventus questa è la cosa che ha colpito maggiormente noi tutti e credo che abbia portato a delle riflessioni importanti perché comunque ragazzi i rapporti con Andrea Agnelli erano freddi perché si chiede come mai i rapporti tra Andrea Agnelli e Del Piero erano freddi se ricordate Alex Del Piero nel prima dell'ultimo anno insomma con la Juventus prese in contropiede la società facendo un annuncio video dicendo che avrebbe firmato il suo ultimo contratto in bianco questa fu una mossa che non piacque particolarmente al management allora della Juve c'era Agnelli ovviamente ma c'era anche Beppe Marotta non piacque perché probabilmente avrebbero preferito parlarne in sede privata e poi ridiscutendone i termini eccetera avrebbero trovato magari una soluzione anche Conte se vi ricordate iniziava poi a vedere un po' Alex nell'ultimo anno un po' come marginale non più centrale nel progetto Juve per cui io credo che la società già avesse in mente secondo me di sidularlo quella mossa ovviamente con uno che mediaticamente stringe tanto con i tifosi eccetera ha portato ovviamente la società a obbligarsi a rinnovare il contratto da Alex Del Piero quella roba non piacque tant'è vero che però nella riunione del consiglio di amministrazione se non vado errato di ottobre nell'ultimo anno di Del Piero Agnelli prese in contropiede Del Piero dicendo che appunto quello sarebbe stato l'ultimo anno di Del Piero alla Juve insomma fu questa la scaramuccia e lo strappo tra la società e Del Piero tuttavia ragazzi della grandezza di Del Piero dal punto di vista dell'immagine basta guardare le immagini di Modric che a fine partita si avvicina da Del Piero esulta mostrandogli la linguaccia queste cose ragazzi sono importanti per una questione di immagine credo che la Juventus faccia bene a reintegrare Del Piero in termini o di brand ambassador o di qualsiasi cosa però Del Piero deve essere sicuramente accostato alla Juventus per il bene della società stessa perché al di là della diatriba che si può avere cioè che insomma c'è stato in passato per questa cosa del contratto non si può arrivare a uno strappo simile perché la storia è la storia e il bene della Juventus va oltre queste diatribe super personali questo è sempre stato il limite di Andrea Agnelli devo essere molto molto sincero però ieri c'erano ritrovati allo stadio e la domanda è stata come mai vi dico la mia opinione ma è un'opinione condivisa anche da tanti influencer eccetera ho visto che tanti hanno scritto questa cosa io la condivido pienamente nel senso che a mio parere Del Piero è stato invitato allo stadium sotto alcune pressioni da parte degli Elkan in realtà fosse stato per Andrea Agnelli probabilmente Del Piero non sarebbe tornato allo stadium così in grande stile con tutte queste presentazioni eccetera e quindi io ieri ho notato anche che nelle immagini Del Piero è stato accolto da Riva Bene uomo e mastino degli Elkan non c'è un'immagine con Andrea Agnelli vicino ad Alex non c'è un'immagine con Nedved vicino ad Alex questa cosa effettivamente è strana molto molto strana tuttavia trovate anche su Twitter comunque dei tweet chiari di Lapo Elkan voi dite ma chi è Lapo Elkan? Lapo Elkan ragazzi è fratello di Iacchi quindi insomma ha un certo potere di influenza e dal punto di vista creativo e marchettaro devo essere sincero Lapo Elkan è mostruoso a livello di competenze insomma dal punto di vista marketing e immagine eccetera e branding secondo me Lapo Elkan è veramente molto molto forte parla con cognizioni di causa ha voluto reintegrare secondo me Del Piero insomma lì allo stadium le ha voluto portare là per dare un segnale forte e quindi insomma le considerazioni sono le seguenti Calvo è tornato in società anche se comunque i rapporti adesso con Agnelli sono cordiali dopo ciò che è successo però mi pare che Agnelli sia sempre più legato a questioni Juve sì ma in ottica esterna di governance esterna quindi Superlega eccetera noi tutti abbiamo pensato a Agnelli che insomma essendo impegnato in altri fronti soprattutto la Superlega eccetera insomma abbiamo pensato tutto ma questo sta trascurando comunque la squadra i bisogni attuali per cui io credo che la Juventus abbia creato secondo me una struttura interna capace di camminare da solo anche senza Andrea Agnelli ma Andrea Agnelli si occupa di altre vicende infatti cosa vi ho detto fin dall'altro video secondo me la partita grande Agnelli se la gioca sulla Superlega qualora non dovesse andare in porto questo gran progetto probabilmente Agnelli avrà sempre i ruoli più marginali all'interno della Juventus così è già in realtà però credo che dal punto di vista della progettazione dal punto di vista del trattare con altri presidenti eccetera Agnelli è sicuramente un uomo che ci sa fare da quel punto di vista ci sa fare meno probabilmente con le risorse interne umane perché comunque vediamo anche con Del Piero con certi allenatori con certe situazioni Agnelli è arrivato a delle frizioni personali quindi hanno portato secondo me a un divorzio spesso a un modo di rapportarsi particolare ecco secondo me credo che invece gli Elkan abbiano voluto rimettere al centro Del Piero l'immagine della Juventus la Juventus ha tweetato diverse cose su Del Piero come non accadeva da tempo non so ragazzi che cosa sta succedendo nella Juventus fatto sta che la corrente Elkan insomma sta soffiando di nuovo alla grande e vedremo un po' se Agnelli verrà veramente strommesso dal progetto Juve o rimarrà in qualità di supervisore legato alle vicende Superlega eccetera ecco io credo che sia questa attualmente lo statuatore delle cose Agnelli impegnato nel fronte Superlega eccetera arriva bene Cherubini Nedved impegnati nel progetto attuale Elkan che supervisionano tramite arriva bene è Del Piero è una scelta di Elkan rimetterla al centro insomma della giornata di ieri creare tutto questo hype qui tweet l'accoglienza lo speaker che quella è una roba fatta da Elkan a me questa roba dalla testa non me la leva nessuno ho proprio questo presentimento qua però io sono curioso ovviamente di di leggervi eccetera a proposito se avete capito che video porterò tra nove giorni scrivetelo sotto nei commenti vi mando un forte abbraccio vi auguro una buona Pasqua primo e ultimo contenuto della giornata chiaro oggi è festa quindi godetevela tutta un abbraccio e sempre fino alla fine forza Juve